Musica Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale Io sono Membro di Gamer e oggi siamo tornati in compagno di Ginetto su Crystal Sì, ormai non mi schiodo più da sta mappa No, mi piace veramente tanto, tanto, tantissimo Soprattutto ora che abbiamo la mod con le creature Crystal Niente, io sono il brodo di Giugiole Allora, come potete vedere, intanto abbiamo fatto un bel po' di pulizia No, non ho ucciso nessuno, anche se la tentazione è stata molta Li ho semplicemente raggruppati Ma cosa stanno facendo col Triceratopo? Niente, l'hanno incastrato male Contro una... perché? Perché bloccate il Triceratopo? Cosa vi ha fatto? Vabbè, non importa, io li lascio così perché non ho voglia Tra l'altro è arrabbiatissimo, sembra che stia per esplodere sta bestia Ma dettaglini Allora, dicevo, ho spostato tipo tutte le bestie in qualsiasi parte di questo amprato di terra Che abbiamo deciso di conquistare perché c'era troppa gente, troppa roba in mezzo ai piedi I nostri Deinonychus Crystal Cuccioli sono cresciuti, ovvio Alla velocità della luce peraltro E mi avete suggerito per far nascere i Night Crystal bellissimi, quello lì Di tipo farli accoppiare di notte e far schiudere gli ovetti di notte Quindi noi faremo così oggi Ma non adesso, non adesso Perché? Perché? Allora, Crypto è stracarico di ogni cosa, della qualunque praticamente Noi siamo carichi Direi che è tutto bene, a parte questo non mi serve, grazie Neanche questo non mi serve, grazie Ne ho pacchi di carne a marcia, giuro Non mi serve E perché adesso il nostro obiettivo Cioè ragazzuoli, torniamo presto È di andarci a prendere lo U-Tyrannus Della mod Crystal Dino Addiction Questa cosa qua No, vabbè, guarda questa trappola tutta distrutta L'avevamo costruita tipo 30 miliardini anni fa, vabbè E se non ricordo male Non laggare così tanto brutto male Ah E se non ricordo male però Questo U-Tyrannus Non si chiama tipo Crystal U-Tyrannus È tipo Amber U-Tyrannus Una cosa del genere Comunque dovremmo andare nella zona brutta brutta Dove c'è il vulcano Che sembra che noi stiamo andando la parte sbagliata È di là E in teoria lì lo dovremmo trovare Ora, in quella zona ci sono anche i Crystal Magmasauri Qualcosa Magmasauri, vabbè, non mi ricordo se il nome è questo Che ovviamente prenderemo Non so se lo faccio adesso Vediamo un attimino Perché so che sono abbastanza cazzutielli E non so se ho la tempra in questo momento Per prendere queste bestiacce Ah, peraltro, peraltro Non mi scuserò mai abbastanza Però ho un ritardo nel rispondere a commenti In messaggi, in privato e quant'altro Che mi vergogno di me stessa Quindi chiedo umilmente scusa Ma ultimamente i miei orari di lavoro sono un po' ballerini E sto lavorando a scoppio, no stop Senza pause, senza tregui Quindi come potete immaginare Il tempo non è proprio dalla mia parte Ah, inoltre, inoltre Mi sono sempre dimenticata di dirvi Che da qualche mese Più di qualche mese Tipo dall'anno scorso Una cosa del genere Io ho aperto un secondo canale YouTube Che non c'entra niente con i videogiochi Ciò ve lo anticipo Che si chiama Ambra Caffè Dove semplicemente Parlo di un po' di tutto Però così Se vi volesse interessare Potesse far piacere Eccetera eccetera Vi lascio ovviamente i link In descrizione Di questo mio secondo canale Dove parlo tendenzialmente Di libri, serie, tv E poi cose a caccia Nel senso ci butto dentro Un po' di tutto Ecco, tutto quello che non può essere gameplay Va nel canale di Ambra Caffè Quindi così Giusto per farmi un po' di pubblicità Però questa è la zona innevata Io mi sa che sto andando Dalla parte È di là Sono una babbea È di là Niente Niente Facciamo finta che non sia successo Niente Noi siamo appena partiti Buongiorno Benvenuti Bentornati sul mio canale Stiamo andando adesso Nella direzione giusta Yay Oh, e fu così Che dopo 50 miliardi di anni Giungemmo nel luogo Disegnato Ehm Dove saranno? Saranno qua in mezzo Alla boscaglia Io vedo O potrebbe però essere anche qua sopra Aspetta Aspetta che andiamo a vedere Sia mai Perché a me questa Sembra zona brucia Sembra zona da creatura Non proprio bruciosa E carina Ecco Quindi secondo me Magmasauri sicuro Ce li becchiamo qua Perché è vicino alla lava Ovvio Sta laggando In una maniera Che non è fastidiosa Di più Di più Perché mi fai questo arc? Perché Vogliamoci bene Dai Vedo gente che si muove Vedo gente Vedo gente che si muove Vedo fuoco Vedo fiamme Vedo l'inferno Cosa sono? Sono Magmasauri Eccoli 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 Però vi ripeto Oggi non penso di avere Quanti sono? Per la pepetta Ma stiamo scherzando Ma cos'è? Chi è che ha fatto la cacca? Scusa No Avevo tolto Avevo tolto le indicazioni Non ho visto se è stato Cripto Se Ginetto Si è spaventato molto Alla vista Di tutte queste creature Scusa Scusa Un 70 Un 70 Un 50 Ma però Però Tutta bella gente E simpatica Aspetta che ne vedo uno Ah no Spero fosse incastratino Che però Un 17 Che però Vista la moglie A me un 17 Potrebbe anche andar bene Cioè nel senso Non voglio tanto Da queste creature Oggi o non oggi Oggi o non oggi Ci penso Ci penso Ma prima Iudirannus Allora Non stiamo troppo vicino Alla lava Grazie Vedo bene che arriva la stagione estiva Eh ma guarda Quanti ma Ma stai scherzando È un'invasione Io come lo prendo Qua lo Iudirannus Se siamo circondati Da queste bestie qua Guarda È stra pieno Sono ovunque Aspetta Ho visto Ho visto Ho visto Roba infuocata E mi sa che Lo Iudirannus Sì 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 Cioè finally Subito in realtà L'abbiamo beccato Però Vediamo il livello Però Vediamo il livello Carino Uh c'è un altro lì C'è un altro lì Ti prego dimmi Che siete una copietta 1 83 Maschio Ah Ember Iudirannus Ecco come si chiama Che fegata No vabbè Questo è mio Questo è mio Assolutissimamente A vedere là Anche questo è bellino È un altro maschio Però anche questo è molto bello Mmm Vabbè comunque Vedo che La zona è abbastanza popolata Quindi Io mi azzarderei Sinceramente A farmi un altro giro Ma non peraltro Perché vorrei Una copietta già vicina Che se riusciamo a prenderli insieme Ottimizziamo un po' i tempi Non è male Visto il periodo Il mio Periodo Intendo Mio Di orari I balenghi Qui abbiamo Un maschio 114 Ah però Un po' nascosto Dalla bosca Là c'è una roba azzurra Fa vedere Che quanto sei bello Dimmi che se è un livello carino Una femmina 13 Eh ma Gne 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 Aspetta che là c'è uno Se io riuscissi a Inquadrarlo Senza dover Perforzare No Ovvio che no Hai recuperato Sì Ok Molto bene Non vale che fai in fretta Io però devo starci attento Alla stamina Che Come sempre Come sempre Me la dimentico Cioè non è che dici Vabbè ma solo questa volta No Cioè sempre Una femmina 83 Una femmina 83 Uh e qui c'è una viverna Bellissima Eh una femmina 83 Aspetta che stavamo per finire In bocca a un altro Yutirannus Me lo son visto Davanti alla faccia E un maschio 48 Ok Allora direi che questa zona Pullula Proprio tranquillamente Di qualsiasi creatura Io voglia catturare Al momento A parte la viverna Brava ecco lei se ne va Così abbiamo Tolto la distrazione Ora Ora Noi abbiamo fatto Tutto 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 il materiale Probabilmente mi mancherà qualcosa As usual Eh Però in teoria Ho tutto il materiale necessario Per catturare Per farmi la gabbietta E catturare queste creature Ahia Cosa Cosa Ah vaffanbro Porca miseria Mi ha fatto venire l'infarto Che qua c'è qualsiasi cosa Vuole uccidermi E questo deve venire a rompere le scatole Allora qua c'è acqua Che mi sembra una cosa molto buona Perché Cicinetto Abbiamo già visto Che c'è sede ogni 3 secondi E mezzo Ma No scusami Cioè non vorrei dire Ovi raptor Ma hai ancora le orecchie di Pasqua Cioè Lillo Pasqua è finita Da quanto? Due mesi? Un mese e me No Un mese sicuro Adesso non mi ricordo Che giorno è oggi Siamo a maggio Quindi sicuramente Un mese è passato Perché Boh Va bene Ehm Ok Allora Direi questa zona Sembra abbastanza Tranquilla Però le vestigie qui si muovono Ascolta Se noi andessimo Andassimo Oltre Questo fiumiciuattolo E io vedo qua Questa Redura Che mi sembra Adattissima Per costruire una gabbietta Io direi che ce la facciamo qui Quindi Cripto Molla tutto il materiale necessario Col cacchio che scendo da cripto Almeno No dai vabbè Non facciamo i fifoni Ginetto Dai ce la possiamo cavare Ce la possiamo cavare Ora però Ci sono alberi Come se non ci fossero domani Che può essere Una cosa buona Perché mi proteggono Una cosa fastidiosa Dal momento in cui le creature Ci si incastreranno in mezzo Prima di arrivare A sudetta gabbia Però Ci porremo il problema Quando sarà il momento Allora Io temo di aver fatto Più 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 Basi del necessario La faremo Lunghetta A così Perché La bestialina È lunghina Quindi qua ci dovrebbe stare Secondo me ci fermiamo qui Ci sta Scusa Cripto Prendiamo un attimo le misure Perché Allora ci sta praticamente Cripto Lo aiuteranno Dovrebbe starci Non dico comodamente Ascolta Io ce li ho Le basi Sfruttiamole Che poi si sa Che all'ultimo Dopo che ho costruito tutto Mi tocca buttare giù roba A raccogliere di non materiali E io Immaginate la voglia Che posso avere in questo momento Ok Ah No Andiamo per ordine Per ordine Allora Da una parte Io mi voglio piazzare La porticuina Questa porticuina Che mi accorgo ora Non è delle dimensioni Che io mi ero immaginata Non ci passa quello Io diranno Secondo me Ci passa Forse avrei dovuto fare Quella più grande Vabbè Non importa Per il momento Faremo A così Sperando che poi Riusciamo ad uscire Quello io Sì ma sì Sì ma sì che riusciamo ad uscire Dai ma perché Mi devo porre sti problemi Perché Perché poi lo so Che sono nei casini Ecco perché Allora Ci mettiamo La porticuina Molto benissimo Sì c'è caldo Geneto C'è caldo C'è sete C'è fame Oddio Ah dicevamo Io mi piazzo Uno Lui Due Tre Ora circondo Tutto con queste Sperando che non me le butti giù Dopo 30 secondi Perché almeno due Io li voglio fatturare Ovvio Poi il magmasauro Mi sa che non riusciamo Ad attirarlo Nella gabbia Perché Mi sembra Di ricordare Che quella creaturina È lenta come la morte E soprattutto Colpisce Da distante Cioè nel senso Ti spara roba addosso Quindi Boh Ehm Così Alta andrà bene Sì Certo che va bene Quando mai esce da qui Dai Allora Secondo me da qui non ci passa Però Tra sapere No 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 Aspetta 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 Perché so già di aver fatto La cavolata Aspetta No ma dai Da qui non ci può passare Non ha senso che io aggiunga Questa roba Faccio Lasciamo così Così Secondo me va più che bene È più che Una gabbia più che dignitosa Da qui non può uscire Perché non può uscire Cioè mi rifiuto di credere Che possa uscire Cioè sono alti due Va bene Niente di che Però Cioè limita tutto No Molto bene E ora ci piazziamo Ehm Crypto Porta pazienza Devi spostare poco poco Il sedere Ok Basterà Ma sì che basta Io cercando di convincermi Che non capisco perché Peraltro perché Ho fatto i materiali Necessari per fare Una gabbia più grande Però sono genovese Però sono genovese Sono tanalla Cioè sono tirchia E di conseguenza Voglio risparmiare Anche sul gioco Dai Secondo me ci passa Secondo me va benissimo Ora me la sono tirata male Lo so già Però Non importa Vediamo di andarci A recuperare la bestiolina Ci ricordiamo Dov'è la gabbia Sì Seguiamo il fiume Easy Easy peasy Allora Sì sì Siamo proprio Lontanissimi da tutto Ok Ok Guarda ce n'è uno qua Solitario Triste triste Che ha bisogno di compagnia Sperando che non sia uno Di quelli livello 13 Come ho visto prima Vediamo Dimmi che sei tipo Il 100 o qualcosa Spunta Dove sei? L'83 Femmina L'83 femmina A me va benissimo L'83 femmina Guarda quanto mi va bene L'ho presa Sì che l'ho presa Uh uh Guarda come corre veloce Uh come corre veloce Aspetta 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 L'ho visto prendere Una super mega rincorsa Allora Aspetta Aspetta che Non ci vedo Una cipalipa Mi stai seguendo Sì mi sta seguendo No Sì No 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 Ok Aspetta Aspetta che Ti rientiro subito L'attenzione Guarda eh Presa sì Presa molto Ok Aspetta Lilo che In realtà forse Potevo anche Incastrarlo tra gli alberi Però non mi fido Più di tanto Ecco appunto Manco detto Sei già incastrata No vedi Eh infatti Non mi fido più di tanto Anche perché Secondo me Li butta giù La gabbia è lì Ok vieni che ti faccio fare Giro lunghetto Porta pazienza Avrei dovuto mettere Forse di qua le rampe Può darsi E mi sorge ora il dubbio Che la gabbia è troppo piccola È gigantesca No Non prendertela con la mia gabbia No 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 Lilla Lilla Tesoro 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 Ecco brava da lì Bra Ma Ma sei una creatura magnifica Cioè si è infilata da sola Nella gabbia Non è che riesce a uscire Vero No È andata da sola dentro la gabbia Cioè creatura dell'anno Dipendente modello Niente Non so cosa dire Non me lo aspettavo Mi ha preso un po' in contropiede Cioè di solito ci mettiamo con i 3-4 milioni di anni Per riuscire a farli entrare Questa va da sola Tranquilla Aspetta c'è una rampa Aspetta c'è una gabbia Da quale non posso uscire Perché non ci entriamo dentro Ma sì dai Molto bene Chi si lamenta Per carità Ora se tu mi facessi il favore Di essere tipo dei nonicus E di andarci giù dopo 10 tardi Se non 5 Ma 5 la vedo difficile Visto il livello e le dimensioni Gigantesche No ma poi Beh è tutta infuocata Ma è bellissima sta signorina È bellissima Sì però Non distruggere subito la porta Porta pazienza Cioè sei stata bravissima Per carità Non mi dovrei lamentare Dovrei solo stare zitta Mi rendo conto che dovrei solo stare zitta E accettare passivamente Il fatto che tu Stia distruggendo la mia gabbia Perché ne hai tutto il diritto Però Però se proprio non buttassi giù Pareti grandi Tipo il portone gigantesco Cioè le partine piccole Vai fai pure Ne ho altre Non ho problema Le rimetto Però Sai com'è Lì là Però Ma aspetta Si addormenta sta bestia Vero? Cioè non è tipo che È immune al torpore No 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 Io mi ricordo Che si doveva narcotizzare Non l'ho letta da poco Quest'informazione Quindi non è una news Ricciente Però Ricordo Che tipo non è passiva Anche perché come la domestichi Passiva questa Scusa Con tutto il rispetto Per chi ha Ha deciso come far A domesticare Ogni creatura di Ark Ma Cioè Sarebbe Una vigliaccata Ecco Mettere questa creatura passiva Lo so che lo U-T-Rannos Di base Non Non è passivo Però magari quello Amber Quello Crystal Della mod Magari sì Forse però si sta arrabbiando Forse si sta arrabbiando Più di prima Intendo Perché mi sembra di vedere In mezzo alle fiamme Anche quei Cerchietti Colorati Che fanno le creature Crystal Quando si nervosiscono parecchio Cioè quando stanno per crollare dal sonno Proprio che non ce la fanno più Ma vogliono resistere a tutti i costi Tipo io la sera Quando torno dal lavoro Sono più o meno in queste condizioni Sì 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 Ora le vedo distintamente Le vedo chiaramente Ci sono tutti i rivolini Rosa intorno Ok Quindi ci siamo quasi Quindi non cantiamo ancora vittoria Finché questa Neanche svenuta Ma finché proprio Non è nella mia sfera Poché Ma io direi Che forse Potremmo dire che Abbiamo Lo io direi No Pensavo se fosse svenire Sarebbe stato bellissimo Se fosse svenuto Proprio alla fine della frase Dove cerchi di andare La Puntura sul culetto Che peraltro Io ti sto sparando da di qua Però Tu sembri più interessata alla porta Cioè Mi aspetterei Che tu ti girassi E te la prendessi Con me No Va bene Continua a prendertela Con la mia porta Lì là però Sì grazie Ok Il mio numero di dardi Non è proprio Altissimo Meno male che ne ho un po' Su cripto Perché siamo già a 32 Cioè ce ne rimangono 32 Io sono partita con 70 E passa Li ho lanciati tutti a te E finora Cioè non ho fatto nient'altro Zitto 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 Subito dardi Subito 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 Ehm Inconscio Cibo Sì Io vorrei inserirlo Cibo Se tu mi facessi Entrare Facciamo A così Ma come mi è svenuta Sta creatura Vabbè Non importa Allora A così E a così No ma ne ho solo 20 Di così crystal Di primal crystal Qualcosa Eh vabbè Vedo che Il torpore Aspetta che abbiamo da mangiare Ah no non ha fame Ha sete Eh certo Ovvio Ovvio che ha sete No vabbè Guarda questa zampa blu Gigantesca Bellissima Cioè Vabbè Ma poi era dentro la gabbia Perché è svenuto fuori Com'è possibile Io adoro sempre di più Le leggi della fisica Che ci sono su questo gioco Ciao Ciccino Patatina Bellissima Ma gli occhietti chiusi No davvero Gli hanno finalmente Fatto chiudere gli occhi Quando si addormentano Che di solito Sembrano Posseduti Che hanno questi occhioni aperti Giganteschi Tu mangi questo Sì Sì Secondo me sì Oh Sì c'è caldo Lo so Siamo in zona Un pochino torrida Però vista la stagione Non ho ancora mangiato Neanche uno Allora aspetta Che non glieli lascio Tutti Non glieli lascio Che minimo qualcuno Me la uccide Si sveglia Se ne va Per ora Gli ne diamo Sei Mi sembra un buon numero Sei Così A caso Ti prego mangia Ti prego mangia La domestica Ti please Please Allora io ne ho messi sei Vediamo Se Vediamo se Sei bellissima A parte tutto Cioè a parte qualsiasi Sei bellissima E c'è ancora tutte le cosine Luminose intorno Io non ho fatto la sella Non importa Non importa Ci penseremo Quando torniamo alla base E facciamo fare i cuccioli Che dite Sì Io dico di sì Sì Mangia 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 ti stai domesticando Quindi Sì Ok Ok a quanto siamo No vabbè 91% Con uno Eh Vabbè Ho già detto quanto amo Queste creature crystal Forse no Ginetto Non sei l'unico Non sei l'unico ad avere caldo Ti giuro che non sei l'unico ad avere caldo Cioè le temperature qua dicono 28 gradi Ma io percepisco 54 gradi all'ombra al momento Quindi ti assicuro che sto peggio di te Tu dirai Non ci posso credere Perché se sono in parte È un dinosauro in fiamme C'hai ragione Sì va bene Ora ci andiamo a buttare un po' in acqua Sperando che non ci mangi nessuno Fammi andare a Far bagnare poco poco sto ragazzo Che Mi muore disidratato Sia mai Sia mai Sì cosa è questa roba in acqua Guarda che belline le piantine che ci sono qua Piragna ce n'è? No Molto bene Meglio? Fammi anche riempire le borracce Ho visto movimento Ti sei addomesticata? No Sono sempre solo le lucine Però Però se Cioè Le tempistiche sono queste Ci va di lusso Cioè ci va grandemente Fortemente di lusso Cioè Può essere Non voglio anticipare niente Ma può essere Che io riesca a registrare Questo episodio tutto di fila Senza dover fare Gli spezzettoni E registrare 5 minuti al giorno Come è successo per l'ultimo episodio Che sia possibile Davvero Al miracolo Oggi urliamo al miracolo Se riesco eh Ve lo faccio sapere Se devo spezzettare o no Che lo so che non me ne frega niente Però così Tanto per Per memoria mia Sì comunque Guardando troppo Per troppo tempo Cioè fissando insistentemente Sta creatura Queste fiammette Così fanno venire Un pochino di Cioè non lo so Mi sfalsano la vista Cioè mi incasinano Un pochino No no Mi giro dall'altra parte Aspetta però Io non ho guardato A narcotici Il torpore È una figata Su sta creatura Ah giusto no Che tu non vuoi che Da fuori Non mi fa cedere Aspetta Devo entrare per forza dentro Dove c'è solo una zampa Peraltro No direi che A torpore siamo A postissimo Posso anche togliere questi Uh Eccolo S Ecco S Ecco S Sì 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 Però non ti arrabbiare Però stai calmo Allora Riuscirai tu ad uscire da qui Secondo me sì Io credo fortemente Che tu possa uscire Confermi Ciao amore Ciao creatura meravigliosa Bellissima e stupenda Scusa fatti vedere No vabbè No Oh mio dio Quanto Quanto è figa Quanto A parte quando caga Però Tralasciando questi momenti Che vabbè Quanto Ciao Sì sì Oddio Amore Ti amo Ti amo Il nostro amore Assolutissimamente Cioè Tu sei andata nella gabbia da sola Ti sei domesticata con solamente due cristalli Ti amo Cioè più che amarti Cos'altro posso fare Sì lo so che non è un buon punto Dove puntare la sfera Pochi aspetti Guardi Punto un attimino più su Giusto per non passare per maniaco Ok Perfetto E uno ce l'abbiamo Io non ci voglio credere Cioè sono molto stupita Non c'è uno zainetto Sì c'è Va bene Ci abbiamo recuperato anche un sacco di cristalli Ok 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 super mega ok Quindi abbiamo la femminuccia Ora ci manca un maschietto E direi che a maschietti C'era solo l'imbarazzo della scelta Cioè praticamente devo scegliere il livello colore E poi a posto è come andare al supermercado Giusto? Cioè io lo punto e dico voglio quello E anche lui si butterà nella gabbia Come la sua compagnuccia Tizio Scusa Eh no no quando è troppo è troppo è troppo Eh Cioè mi hai fatto venire l'infarto prima Mi fai venire l'infarto adesso Basta La quinta l'inquietante ombra di una viverna che sorvola il chuello Questo chuello rossastro Va bene No Gabbiani malefici No Andiamo di là Aspetta Vedo fuoco Fuoco infuocato Aspetta che vedo fuoco infuocato di qua No però un altro blu No Cioè ho già la femmina azzurrina No scusami Cioè Non per fare discriminazioni Però ho già la femmina di sto colore Vorrei un altro Ecco Ma scusa Era pieno di iu tirannus Cioè ogni mezzo metro C'erano due o tre iu tirannus E adesso Così sono spariti tutti Cos'è ora dell'appetitivo Tutti al bar Non ho capito Era pieno Cioè non me lo sto sognando L'avete visti anche voi prima Sì era pieno Qui sì Ok Però a quanto pare Hanno deciso che no Guarda che là c'è Ma Aspetta Aspetta Io non vorrei Fare Tu sei in casa No non è incastrato Sembrava incastrato però eh Ci ha illuso fortemente Perché sembrava incastrato E dico la verità Se fosse effettivamente stato incastrato Forse avrei provato a prendere il magmasauro Forse Non ti arrabbiare Lilo Non ce l'ho con te Tranquillo Stai transol Proprio Non ho problemi Questa è verdina La coda è verdina E là c'è rosa Però mi sa Che è un maschietto rosa Vero Che vabbè Per carità Cioè nel senso Non è quello il problema Però verdino A me Si sa Piace di più Eh sì Puoi comparire a livello È un 52 Però Cioè possiamo ottenere di meglio Grandemente di meglio Tipo Un 17 Un 43 Ok no niente Stavo scherzando A quanto pare no Eh no 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 C'era la sagra Dei biustere Della salsiccia qui Quindi io ora Pretendo i maschietti Di livello alto Che ho visto prima Cioè finita la fiera Non ho capito Tornati tutti a casa Ok No c'erano C'erano Li abbiamo visti tutti Li abbiamo visti tutti Io non ho le allucinazioni O meglio Probabilmente ce li ho Ma non adesso Cioè non in questo caso Ebbene sì Ebbene sì Alla fine Non so come Non so perché Ma ho registrato Un botto Ragazzi Cioè ho fatto Pensavo ne uscisse un episodio Invece ne sono usciti tre E che vi devo dire Comunque No problema Non faccio la carognata In questo caso E ve li pubblico Nei prossimi giorni Cioè uno al giorno Tipo questo è uscito oggi Poi la seconda parte Uscirà domani A dio piacendo ovviamente Salvo imprevisti E dopo domani Faccio uscire la terza E ultima Penso Parte Vi chiedo scusa Però è venuto appunto Un episodio lunghissimo Anche perché ho parlato A scoppio Che per carità Per me non è strano Però in questo episodio Veramente strafatto Cioè un po' esagerato Ho parlato ogni secondo Di registrazione Praticamente E quindi niente Mo vi beccate Sto malloppone lunghissimo E spero che comunque Gli episodi vi piacciono Mi raccomando Fatemelo sapere nei commenti Intanto vi mando Un enorme bacione Un grandissimo abbraccio Ciao ciao